Amici e lettori di Corse di Moto, bentornati su Corse di Moto TV, il nuovo canale YouTube di Corse di Moto. Un saluto ovviamente da parte mia, da Andrea Periccioli. Come potete vedere l'ospite odierno è Alessandro Delbianco, un pilota molto conosciuto in ambito nazionale per le sue numerose apparizioni nel campionato italiano velocità, ma non solo, vanta trascorsi nell'Europeo Stock 1000, nel mondiale Superbike e più recentemente anche nel mondiale Endurance. Intanto ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao Pericci. Buon anno perché è la prima volta che faccio una video in periodica di contatto. Hai trascorso buone vacanze, sei stato tranquillo, dubito. Siamo a febbraio. Sì, no, no, no. L'anno è iniziata alla grande. Sì, 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 l'anno per me è iniziata alla grande. Bene, bene. Mi fa piacere. Anche perché abbiamo tante tematiche da approfondire in questa nostra video intervista. Allora, di solito in questi casi si usa partire ponendo all'intervistato un bilancio della scorsa stagione, però con te vorrei partire dalla più stretta attualità. Perché poche settimane fa è uscito un annuncio che era nell'aria un po' dal diverso tempo, ovvero il tuo passaggio, o meglio il tuo ritorno in DMR Racing, squadra che diventerà peraltro struttura di riferimento Yamaha e tu sei sotto contratto con Yamaha, sempre nel Civ Superbike ovviamente, e a giudicare un po' dalla marea di post, storie che hai condiviso sui tuoi social, la voglia di iniziare questa nuova vecchia sfida sia tanta. Ma allora, intanto sì, senza parlare del 2023, ma non perché non la voglia parlare, anche perché è finita, credo, nel miglior modo possibile per finire una stagione. Difatti, se mi vedi così contento e carico, proprio perché quando chiudi la stagione, come in questo caso, poi le vittorie, ma comunque quando la chiudi bene, poi parte con una voglia diversa. Perché non è quella voglia di riscatto che poi stai male, è quella voglia positiva, quella voglia piacevole. Io sono molto contento di questa scelta perché sono stato veramente bene negli anni con DMR e ne ho già passati due con loro e quindi diciamo che si sono uniti un po' di punti, perché in Yamaha è il posto dove mi sono trovato più pilota, proprio professionalmente parlando, che mi hanno trattato proprio come un professionista. E dall'altra parte c'è DMR che è un po' la squadra dove sono nato, sono cresciuto, un po' veramente, lo dicono tutti, quindi è un po' particolare questa frase, però è un po' veramente la mia seconda famiglia, perché comunque ci ho passato i primi podi, le prime lotte, dove ho fatto le ossa, quindi è un po' un cerchio per me questo. Sì, ora mi hai anticipato un po' anche la domanda successiva, perché appunto il team DMR ti ha rilanciato dopo quella parentesi un po' infelice che ha vissuto nel Mondiale Superbike, una stagione problematica, lo sappiamo bene, che però dal mio punto di vista forse per certi versi ti ha anche aiutato a capire come e dove indirizzare poi il tuo futuro di carriera, è stato di fatto che il team DMR ti ha accolto nel Cibio Superbike nel biegno 2020-2021, prima con BMW, poi con Honda e grazie a loro appunto hai conquistato, si sei affacciato sul palcoscenico dei grandi del Cibio Superbike, conquistando i primi podi, le prime pole position, quindi appunto lo possiamo definire un ritorno a casa per te. Ma sì, assolutamente sì e di fatti quando mi hanno spiegato cosa stava succedendo e da fuori può sembrare che magari sono cose che nascono durante la stagione, in realtà è venuto fuori tutto a fine stagione, quindi quando ho capito cosa stava succedendo mi sono un po' sfregato le mani perché avevo voglia, sarei stato felice se si concludesse, poi dall'altra parte da pilota non volevo intromettermi anche perché ci sono mille opzioni da sistemare, quindi non volevo intanto fare un torto al team con cui ero perché mi ero trovato molto bene, quindi io a fine stagione ho detto a Yamaha rimaniamo insieme, bene, poi mi farete sapere voi con chi rimarremo insieme, poi ho capito un po' come stavo muovendo le pedine e devo essere sincero l'ho accolta proprio in maniera positiva. Ci tengo a chiederti una cosa che quest'inverno ho fatto un tipo brainstorming, come si chiamano queste cose, quindi ho cercato di rimuovere dal mio vocabolario quel tipo stagione infelice, nel senso che o adesso dico e penso che quell'anno il Mondiale Superbike è stato un anno di crescita, un anno di esperienza ed è stato un anno importante, quindi cerco di rivederla con un altro occhio. Anche da questi aspetti si nota che stai maturando sotto tanti punti di vista, l'Alessandro del Bianco di qualche anno fa non lo avrebbe detto. No, certo, certo, però a un certo punto bisogna diventare grandi, bisogna iniziare a cambiare un po' l'ottica di gara e anche l'ottica di vita, a un certo punto poi è anche il momento di capire che se io adesso sono questa persona, comunque ho un contratto con Yamaha e comunque alla fine adesso vivo delle corse, sono cambiate queste cose, probabilmente anche grazie a quella stagione, anche grazie a tanti errori, grazie a tante fregature, tante cose che ti hanno fatto diventare grandi. Certo, ora qualcosa abbiamo fatto capire, comunque per chi non lo sapesse lo ripetiamo, fino all'anno scorso nel Civ Superbike la squadra di riferimento era il Keupe Motor Team con cui è corso l'anno scorso, da quest'anno diventerai il Team DMR. Secondo te, ora è vero che magari in certe decisioni tu non ci avevi a che fare, però secondo te come mai poi i vertici di Yamaha Italia hanno opzionato il Team DMR? Cioè quali sono le caratteristiche che potrebbero far diventare questo nuovo matrimonio vincente? Allora, secondo me sono più opzioni, più pensieri, intanto a un certo punto come cambiano i piloti, alla fine anche dal Team Keupe o in Yamaha o in DMR cambiano piloti, quindi a volte anche tra, ma non perché uno non vada bene, ma perché vi servono nuovi incentivi, nuove idee, nuove visioni e lo va secondo me a volte anche in team ufficiale, poi siamo all'italiano, quindi nel senso non si parla di MotoGP, di Mondiale Superbike, probabilmente delle case hanno bisogno un po' di mescolare un po' di carte per avere, per vedere nuovi orizzonti. Ecco, dall'altra parte sicuramente DMR si presenta con le spalle coperte perché si presentano comunque con una bellissima hospitality di loro proprietà, si presentano con un grande team, quindi sicuramente è anche una squadra che ha un bel biglietto da visita, perciò in una casa madre quando vede comunque una struttura che può darti anche come visibilità oltre come professionalità tutta questa ciccia, poi alla fine magari è stata quella, ti ripeto vado a tentativi perché veramente per non mancare di rispetto, ma perché poi non era neanche il mio ruolo, ho cercato proprio di rimanerne, ti dico questa, mi sono incontrato varie volte con Durigon che è proprietario del team DMR e ci siamo imbeccati anche in fiera eccetera, però sono andato a trovarli in sede settimana scorsa per dirti quanto ci ho messo, hai capito, perché ho fatto fare loro poi dopo ecco. Ora non so se ci può anticipare qualche piccolo spoiler, però immaginiamo che a questo punto il team DMR lascerà i suoi storici colori. Eh sì, guarda, qui credo sia stata una bella lotta perché comunque DMR è sempre stato nero giallo e poi Yamaha comunque si dice diventi factory, noi ci aiutiamo però d'altra parte bisogna che giustamente le moto, le tute, i colori, il bilico abbiano il blu predominante e allora giustamente il team, scusa una chiamata, perdona, perdona hai fatto, ho avuto una chiamata sotto e dicevo e quindi sicuramente sarà tutto blu, quindi la moto secondo me non l'ho vista ma sarà molto simile alla moto con cui ho già corso quest'anno, cambieranno gli sponsor, i partner, magari Durigon ci metterà un po' di giallo però bene o male stringi la moto è quella. Vabbè è una livrea chic dai, cresce l'attesa, cresce l'attesa. Senti, venendo proprio a te in prima persona, in questi anni chiaramente come hai detto anche tu sei maturato molto, sei cresciuto proprio anche a livello velocistico, le tue prestazioni sono migliorate, però forse ti è sempre mancata una continuità non tanto di risultati quanto una continuità progettuale, nel senso che da una stagione all'altra non hai mai guidato la stessa moto. Certo, ho sempre fatto un po'. Per la prima volta guiderai la stessa moto per due anni di fila, oltretutto torni in una squadra che già conosci, dove hai fatto bene, quindi ti chiedo se forse... No, no, però ti chiedo se per la prima volta da tempo inizi la stagione con più certezze del solito. Sì, sicuramente sì. Devo dirti che questa cosa del cambiare moto non l'ho mai vissuta come una scusante, deve imparare la moto, cioè nel senso non la vedo mai come un ostacolo, dover imparare la moto nuova o la squadra nuova. Però sicuramente il non doverlo fare è un grande vantaggio. Quindi non mi sento penalizzato gli anni scorsi per aver cambiato, anche perché comunque se cambiavo era cercare sempre qualcosina meglio ogni anno, quindi in teoria mi sentivo sempre più pronto rispetto all'anno precedente. Però non l'ho mai vissuta male. Sicuramente quest'anno invece sarà un bel modo di ripartire con la stessa moto, con una squadra che conosco, con persone che già conosco tutte, quindi non devi più presentarti e fare quelle robe lì. Sicuramente la cosa da non sottovalutare è forse, anzi, che è vero che la moto è la stessa, ma quando cambia il team cambia un po' tutto. Cioè poi ognuno ha il suo modo di fare, ha il suo modo di fare elettronica, ha il suo modo di gestire elettronica e anche sospensionicamente la moto. Poi ogni team che da una cosa altra da non sottovalutare ha i suoi brand partner storici. Per esempio DMR e Cheope entrambi usavano le Hollins, quindi questo sicuramente sarà una cosa che mi avvantaggia perché almeno conosci bene o male la ciclistica della moto. Però stai, cambia il team, cambiano mille cose, quindi c'è da tenerla in d'occhio quella cosa lì. E perché poi considerando che il campione in carica Zanetti cambierà campionato passando all'IDM Superbike e il campionato tedesco, tu sulla carta sei uno dei principali antagonisti di Pirro insieme alla coppia di un nuovo M2 Racing, Bernardi più cavalieri e altri potenziali outsider come Vitali, il tuo compagno di squadra stesso russo e via dicendo. Ma il tema secondo me è sempre lo stesso, sono contento che mi mettete tra i favoriti perché anche se sembra scontato, comunque ho sempre fatto dei podi, delle vittorie ogni anno, è sempre piacevole sentirlo, quindi non è scontata questa cosa. E poi dall'altra parte ti dico che assolutamente l'italiano ha un livello molto alto, quindi siamo sempre pochi e questo è un po' quello che ci frega, ma il livello è talmente alto che di piloti forti ce ne sono tanti, quindi come dicevi tutti gli aprili andranno fortissimo, non c'è Zanetti ma c'è Pirro che è forse il più scomodo dell'otto e quindi sicuramente sarà sempre una situazione complicata, anche perché sai, poi questa cosa del fatto che siamo in pochi è un'arma a doppio taglio, perché se non vinci e non fai il podio sembra che non hai fatto niente, cioè fai quarto e dici vabbè eravate in dieci, no? Sì ma ti sei fatto un masto tanto per far quarto, capito? Cosa che magari se fosse in trenta sarebbe la stessa ridica fatica, ecco. Allora, mettiamo un attimo da parte il CIV. Quest'anno va dato atto alla federazione, alla federazione motociclistica italiana, di essere riuscita a stilare un calendario senza concomitanze con il mondiale endurance. Visto che te sei entrato subito nel cuore degli appassionati per quel, oserei dire, funambolico episodio che ti ha visto coinvolta al Boldore, ovvero di te che ti sei ritrovata a trascinare la moto fino al traguardo fondamentalmente. chiedo se puoi, eh beh, sei diventato virale, possiamo dirlo, una apparizione è rimasta nella mente di tutti. La BCC in America ha fatto vedere uno spezzone delle... Eh beh, peccato che non ti abbiano dato un attestato di stima. Ti racconto questa storia, io ho fatto come prova di esperienza, anzi come divertimento, l'ho fatta con la gara perché sì, l'ho presa seriamente, ma era un regalo quasi, nel senso non è stata una cosa dovuta, ecco. Lo volevo fare come mio bagaglio di esperienza, una 24 ore. Il problema è che mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto, mi sono divertito e mi è piaciuto. Col team sono rimasti in ottimi rapporti, a tal punto che quest'anno sia a Yamaha che a DMR ho comunicato e gli ho detto guarda, quest'anno oltre al sì vorrei fare questo e questo. Nulla oltre al sì, sì va bene, basta che gara che sono in concomitanza. col team tutti contenti, mi hanno una proposta interessantissima, firmo il contratto per fare il mondiale endurance, purtroppo la settimana successiva mi ha scritto il team che hanno avuto un problema economico di budget con gli sponsor e il team è chiuso. Quindi, questo è proprio uno scoop in presa diretta, quindi. Sì, diciamo che, non so se loro l'abbiano comunicato o meno, però a me mi è arrivato un email del team che i comunica che purtroppo, perché alla fine loro stanno malissimo, perché poi, noi i team le viviamo un po' come l'italiano, in realtà lì il cuore è anche maggiore di meccanici tutti, magari senza stipendio, lo fanno anche loro per bagaglio di esperienza, un po' come i piloti, ecco. E il team mi ha scritto, guarda, ci dispiace, ma noi non riusciamo a coprire le spese per la stagione, dobbiamo rinunciare alla stagione. Poi non so se poi cercheranno altri piloti paganti e magari correranno lo stesso. Momentaneamente a me mi hanno riferito che non corrono proprio, non corrono. E quindi l'ho vissuta male perché ci tenevo, ci speravo e poi il team mi era piaciuto veramente tanto, però dall'altra parte capisco che non è una on-loss, quindi da qualche parte bisogna far quadrare i conti. Quindi ad oggi sono a piedi, ecco. Vabbè, magari, cioè comunque è una specialità dove la Yamaha è impegnata attivamente, quindi ci può stare che una soluzione si possa trovare. Insomma, ci sono diverse squadre che corrono con la R1. Sì, ma tutte piene perché siamo a gennaio comunque. Io avevo dato per scontato questa cosa di questo team. Loro già a ottobre avevamo firmato il contratto, quindi mi hanno scritto adesso. Ovviamente a gennaio è un pochino più complicato trovare una sistemazione, poi adeguata, nel senso che comunque ci sono altri team lì che comunque fanno un pochino più fatica. E quindi, cioè comunque se voglio farla, non voglio fare il gradasso, però ho piacere di farla in un certo modo, non andare lì solo per dirci sono stato, ecco. L'idea, io ero partito con l'idea per vincere e comunque bisogna avere il pilota, la squadra, i piloti, i meccanici, un insieme di persone per comunque per fare un bel risultato. Sì, l'Endurance è proprio un vero sport di squadra, letteralmente. Ora, quindi ancora non sappiamo se andrà in porto il progetto Endurance, però sta andando a gonfie vere il progetto che ti riguarda più da vicino, cioè l'Area 52 Racing. Qua, sì, esatto. E come si può vedere, eh sì. Ormai dappertutto, però ho preso l'armadio, l'ho buttato via e ho fatto solo roba Area 52. Che lo state portando avanti tu e la tua compagna, Alessia Fini, che è una ragazza che l'anno scorso ha preso parte ad alcune gare del cervello femminile, appunto insieme partecipate attivamente a questo progetto, che è di fatto un progetto che riguarda i corsi di guida fondamentalmente per tutti, per i neofiti, insomma, per chi vuole percorrere anche i primi chilometri in moto, accumulare un po' più di esperienza. Siccome è una novità, perché alla fine il progetto è stato annunciato adesso nei mesi invernali, da dove è nata questa idea e quale obiettivo si pone? Allora, a me parto da questa idea. Mi piace farlo, quindi a me sembra piaciuto fare l'istruttore o comunque insegnare quello che più mi piace ad altri. Il problema è che ho già lavorato come istruttore e spesso in una scuola guida grande, quindi capita che magari ti mettono delle persone al tuo corso di guida e persone che non avevano magari neanche idea di chi io fossi e le capisco. Però quello che io dico è che avevo piacere di trasmettere il mio modo di fare e il mio know-how, cioè la mia guida, le mie nozioni, quello che io ho, a chi veramente può riconoscere e chi ha dall'altra parte. Perciò quello che io volevo dire era che spesso mi capitava di portare a spasso qualcuno piuttosto che veramente fargli un corso di guida. Io quest'anno mi sono dilettato un po' con lo snowboard e quando per imparare dici vado dal maestro e prendo tra virgolette uno a caso giusto per dire come si scende dalla montagna, quando diventerò magari più bravo e voglio un maestro professionista che lo fa di mestiere, allora cercherò proprio quella persona lì. Io invece mi trovavo a essere magari uno che lo fa di mestiere a dover spiegare a chi realmente non gli interessava poi fare il pilota, ecco. E invece a me piace proprio spiegare questa cosa a chi vuole andare proprio, cioè a chi proprio ha voglia, che viene da me perché proprio dice io voglio star con lui perché lui mi insegna, quello mi piace. Esatto, arrivo proprio qua, l'idea che abbiamo avuto è proprio questa, nel senso che spesso giustamente mi capitano degli allievi che magari hanno la loro età e vanno in moto come tutti 3, 4, 5 volte all'anno, si presentano con dei mille, salgono in moto e gli dico fai così, fai cosa e questi giustamente non riescono perché sono in balie della moto perché quando una moto la guidi 5 volte all'anno hai l'istruttore davanti a te e ti dici delle cose ma tu non riesci proprio a esprimerti a fare quello che lui ti dice. Quindi ho preso queste Yamaha R3 che poi tra l'altro usano tutti i professionisti per allenarti, quindi un motivo c'è, con queste Yamaha invece che hanno una potenza più gestibile, moto più comode, magari non vai in Mugello ma vai in un cartodromo, chiunque può veramente sfruttare la moto e dedicarsi sulla propria guida. Non più essere il, è presente lo zainetto dietro come passeggero della persona, ma in prima persona guidare ad operare una moto, così che la giornata è veramente un corso di guida e non una passeggiata in pista, ecco. Ecco, senza poi tirarla troppo per le lunghe, ma se io ad esempio domattina mi svegliassi e mi dicesse guarda voglio iscrivermi a una giornata in pista con Alessandro e D'Alessia, come faccio, come verrà poi strutturata? Allora, come fa è molto semplice, abbiamo il sito internet, le pagine Instagram, quindi ormai siamo super tecnologici di modi per comunicarci, ce ne sono un miliardo. La giornata è strutturata che è una giornata insieme dove la cosa carina, dopo la cosa carina che noi stiamo facendo in questo periodo è che non diamo delle date fisse. Uno ci chiama e mi dice abito a Milano, mercoledì non lavoro, io prendo, vado a Milano da lui, cerchiamo una pista intorno a lui e giriamo il giorno che lui è disponibile, quindi cerco di cucire il corso di guida migliore per la persona che ho davanti a me, perciò non ho fatto delle date fisse, ma uno mi chiama e gestiamo data e pista insieme. Poi dall'altra parte il corso cerco di, è un corso individuale sempre, quindi faccio uno o due persone al massimo al giorno, perché voglio veramente massimizzare la giornata in pista e girare più che possiamo. Vi sono capito dei ragazzi giovani di vent'anni che avevano voglia di girare, abbiamo fatto tipo 13 turni in un giorno, hai capito? Se loro vogliono girare, io li vado a girare, proprio zero problemi. Beh, perfetto. E allora con questa ultima domanda noi possiamo concludere la nostra video intervista, ringraziamo di nuovo nuovamente Alessandro, che immaginiamo prossimamente sarà impegnato nei primi test della nuova stagione e per altri contenuti, approfondimenti, altre video interviste, noi ovviamente vi consigliamo di restare collegati qui su Corsi di Moto TV e ovviamente anche sul sito web corsidimoto.com. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao! Ciao raga, a presto!